Da giovedì 24 giugno sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno più nave, frutto della collaborazione tra Trenitalia e le compagnie Tore Marmobi. È una nuova formula innovativa e pratica, ha commentato l'assessore ai trasporti Bacelli, esempio di collaborazioni positive e di una sinergia che garantisce maggiore agilità per chi viaggia. In sostanza dal sito internet di Trenitalia sarà possibile acquistare un'unica soluzione, oltre al percorso ferroviario da qualsiasi stazione fino a Piombino Marittima, quello della nave o del mezzo veloce, selezionando come destinazione finale una località dell'isola d'Elba tra Elba Fortoferraio e Rio Marino Cavo. I treni di Trenitalia raggiungono Piombino Marittima, mentre Mobi e Tore Mar garantiscono a tutti i turisti residenti un ponte virtuale fra la Toscana e i porti elbani. Con la formula partiprima invece sarà possibile per coloro che acquistano i biglietti con Mobi e Tore Mar poter anticipare la partenza fatta salva la disponibilità di posti rendendo il proprio vaggio ancora più comodo e flessibile.